Buonasera e bentrovati a questa puntata speciale di Eventi. Abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli italiani e chi non ricorda quel motto imparato sui banchi di scuola e attribuito dai più a Massimo D'Azzeglio, in 150 anni i confini della penisola sono cambiati più volte, anche se di poco, ma oggi possiamo dire che l'Italia è una realtà geograficamente e politicamente compiuta. Non so se possiamo dire che l'Italia come popolo unitario, come comune sentire e partecipare sia davvero una realtà compiuta. Restano ancora aperte molte questioni, come quella emblematica che è la questione meridionale. Senza di essa non si spiegherebbe probabilmente né la nascita e la crescita di un grande movimento politico come la Lega Nord, né il tema del federalismo. Non si spiegherebbe la dimensione e le caratteristiche dell'industrializzazione italiana e nemmeno la grande questione delle radici culturali, per così dire, di quelle particolari forme di criminalità che liquidiamo con i nomi di mafia, andrangheta, camorra. Tutte questioni che sono state al centro di un dibattito singolare, ospitato al Palazzo Carresi di Treviso, presenti decine e decine di studenti delle scuole superiori della città nel contesto delle celebrazioni per l'Unità d'Italia. In cattedra uno dei massimi esperti della questione meridionale, Giuseppe Galasso, ex parlamentare, che ha legato il suo nome alla prima legge ambientalista italiana, la legge Galasso appunto. Il tutto per iniziativa dell'Associazione Jacques Maritain. Questa sera vi presentiamo questa splendida lezione, ma prima seguiamo un dialogo sui temi di attualità in maniera particolare tra il professor Galasso e il direttore scientifico dell'Associazione Jacques Maritain, Antonio Calò. Abbiamo chiamato il professor Galasso per una questione che direi molto delicata, però di interesse non solo nazionale, ma anche per certi versi europei, perché la questione meridionale ha avuto origini di carattere europeo, non solo italiano. Però entriamo nell'oggi e entrando nell'oggi la prima domanda che vorrei farle professore, è questa. Ma parlare della questione, nel caso poi dei 150 anni dell'Unità d'Italia, parlare della questione meridionale sembra quasi parlare di due Italie, possiamo definire così la cosa o invece? Possiamo definirla e non definirla così, è uno di quei classici tipi di questioni in cui le soluzioni opposte non si escoltano, non sono alternative. Due a punto di vista della struttura economico-sociale e anche per certe caratteristiche culturali che appartengono all'Italia in generale, ma appartengono all'Europa in generale. Non ci sono in Europa regioni perfettamente simili e omogenee, da nessuna parte, nei paesi più sviluppati come in quelli meno sviluppati. Del resto non si conosce nessun caso di sviluppo omogeneamente diffuso sul territorio, anche nei paesi più sviluppati, mettiamo gli Stati Uniti d'America, il Giappone o l'Inghilterra o la Germania, le differenze regionali ci sono. La particolarità delle differenze regionali in Italia è che esse danno luogo ad un dualismo strutturale a due Italie, se vogliamo dire così, abbastanza configurate nelle loro rispettive caratteristiche e dimensioni. Però mentre certamente possiamo parlare di due Italie in questo senso, non ne possiamo peraltro parlare dal punto di vista dello sviluppo generale della cultura italiana, dove la parte del mezzogiorno non solo è perfettamente integrata, ma molte volte per molti aspetti anche preminente e questo non solo su scala italiana, ma ben al di là dei confini italiani e non ne possiamo neppure parlare ormai tanto dal punto di vista del costume. Se lei va al sud troverà gli stessi negozi, le stesse pratiche commerciali, la stessa moda, gli stessi tipi di comportamento e così via. Ma allora a questo punto potremmo, perché non invertire le cose? Pensare che invece parlare della questione meridionale può essere invece l'elemento caratterizzante, un elemento forte per parlare dell'unità d'Italia nel senso veramente positivo. In pratica si è sempre fatto così e anche oggi che si sia o non si sia consapevoli di questo si fa così. Sì, è vero anche però che qua, soprattutto dove siamo noi, forte è il vento del federalismo e allora ci si domandava, ma questo federalismo può essere veramente d'aiuto al meridione o l'elemento federale così inteso, così visto fino adesso è un elemento federale che non ha niente a che vedere con la visione per esempio di una strada spinelliana o di altri grandi che avevano immaginato un federalismo, ma forse non questo, cioè su base economica, solamente su base economica. guardi, il federalismo di per sé non contraddice né all'unità nazionale, né all'unità culturale, né all'unità politica della nazione, ci sono grandi e piccoli paesi a struttura federale dove il vincolo nazionale non è forte, è fortissimo. Quando si pensa alla Svizzera è difficile pensare a un esempio di federalismo più spinto, più integrale, diciamo così, ma è anche difficile pensare a un esempio di senso e di coscienza nazionale maggiore, la coscienza nazionale elvetica, stesso discorso per gli Stati Uniti d'America, negli Stati Uniti d'America il senso nazionale degli Stati Uniti è talmente forte che la bandiera americana sta pure sugli altari delle chiese, quindi si figuri a che punto. Quindi non è la questione dell'opposizione tra federalismo e nazione, è la questione del tipo di federalismo che si vuole realizzare. Se il federalismo è realizzato sulla base del PIL, del reddito per persona, anno eccetera, francamente sotto l'aspetto di una razionalità si pratica invece una vera e propria irrazionalità, perché quelli sono elementi forti e da considerare, ma non sono elementi esaurienti della considerazione, perfino della considerazione economica. Il mezzogiorno rappresenta dopo tutto un buon terzo, anzi il 40% del mercato italiano che non ha la stessa capacità di consumo delle altre regioni, ma poco ci manca e se io fossi un industriale italiano a cuor leggero non rinunzierei a praticare e insomma anche sfruttare questo mercato e lo stesso ragionamento farei dal punto di vista politico. L'Italia conta in Europa perché ha le dimensioni che ha, se noi riduciamo queste dimensioni italiane riduciamo anche l'importanza. Ma anche sulla questione politica secondo me sarebbe interessante capire se la politica attuale, lo sguardo attuale dei politici, fino a che punto può diventare per i politici una scusa la questione meridionale, invece che una promozione. Sa nella politica come nella vita privata e familiare qualsiasi cosa può costituire una scusa, se io bevo il caffè con la mano destra disturbo chi lo vuole vedere preso con la mano sinistra, qui però il problema non è di scusa, è di sostanza, sono in parte interessi, ma in un'altra e credo io maggiore parte è questione di una sbagliata interpretazione degli interessi, nessuno ne ha la presenza legittima e imprescindibile degli interessi nel dibattito politico e nelle sistemazioni. Perché meno male onestamente non ci sono stati né progetti né visioni. No, c'è un solo progetto, se io produco una lira la devo tenere a casa mia. Può essere considerato un progetto questo? No, si sa. Appunto, giudichi lei che lei devo dire. Però c'è un altro problema, lei è un grande storico, forse uno dei più grandi in Italia, qual è il compito secondo lei di uno storico in questo momento di fronte a questa scossa che l'Unità d'Italia sta subendo a livello di visione. Posso rispondere con una brevissima frase? Certo. Il compito dello storico in questa circostanza, in questo contesto è quello di sempre, di fare il suo mestiere e di farlo bene. Di fare il suo mestiere e di farlo bene, ma lei forse già potrebbe, ma immagino ha avuto di sicuro l'esperienza di dire si potrebbe fare in questo modo, si potrebbe. Sempre, sempre ci sono alternative, la storia non è automatica, determinata, meccanicamente. Una ricetta ce l'ha, una ricetta ce l'ha, professore? Ah no, io credo sempre pericoloso nelle cose politiche e sociali enunciare ricette, è già difficile in medicina, si figuri in politica dove agiscono tanti fattori morali e materiali, però qualcosa si può dire, la prima è di raccomandare al nord di non considerare il sud una zaborra del paese, una zaborra del nord in particolare, perché questo non è vero, così come non è vero l'altro pregiudizio questo dei meridionali e del sud di considerarsi vittima colonia sfruttata e oppressa del nord, sono due pregiudizi opposti che si elidono a vicenda. La ricetta, ma pronunzio questa parola con una… Tra virgolette, usiamo le virgolette. Ma tra molte virgolette. La ricetta prima dovrebbe essere quella di governare il sud e i suoi problemi considerandoli nel quadro delle politiche nazionali e formulare politiche nazionali che contemplano, non una politica speciale per il mezzogiorno, questa assolutamente ormai più… È una cosa estremamente… Si è fatta l'esperienza, basta, ma fare politiche italiane che comprendano organicamente la considerazione delle esigenze e dei problemi del mezzogiorno come purtroppo non si fa. Un'ultima domanda… Breve. Brevissima. Il meridione è comunque sempre rimasto una propagine nel senso geopolitico dell'Italia e anche un ponte tra varie culture a livello europeo e anche africano. Con le situazioni che abbiamo attualmente, secondo me sarebbe bellissimo riproporre questa funzione del meridione che ha sempre fatto veramente da… è sempre riuscito a dialogare… Da ponte, dice lei. Esatto, sì. Cosa dice? Penso che… anche perché questo problema per esempio dell'islamismo, degli arabi… Questo è particolarmente importante e diventa ancora più importante quando si riflette che questa proiezione e funzione pontiera, diciamo così, con una parola che si sta in italiano, non riguarda solo il mezzogiorno, è l'intera penisola italiana che ha sempre fatto questo, la storia di Venezia e di Genova non è altro che questa, la storia di Firenze stessa non è altro che questa. Quindi c'è in questo un ulteriore, oltre le altre mille, una ulteriore ragione di solidarietà e di convergenza degli interessi innanzitutto e poi delle possibilità e potenzialità delle due parti d'Italia. La ringrazio infinitamente e speriamo di averla ancora tra noi. Grazie a voi. Io ora vi lascio alla lezione, per così dire, di Giuseppe Galasso e al dibattito con il giovane pubblico in sala, preceduto dal preside del liceo classico Canova, Paolo Corbucci. Credo che come il liceo Canova aspetti prima di tutto un ringraziamento all'associazione Jacques Maritain e quindi proprio a lei, avvocato Pavan, per questa occasione che ci ha offerto che è un'occasione straordinaria e importantissima. Io credo sia inutile ricordare chi è il professor Giuseppe Galasso, però siccome qui le generazioni sono diverse qui davanti a noi, credo sia anche giusto ricordare che oltre ad essere uno dei più eminenti storici italiani, è forse il più importante storico per quanto riguarda la questione meridionale, la cosiddetta questione meridionale. E quindi è l'opportunità di parlare con il massimo esperto di questa tematica. Ma credo che sia anche utile ricordare, visto che la dimensione dello storico, i ragazzi lo sanno, non è la dimensione di chi vive solo tra i libri e tantomeno nel passato. Il professor Galasso è stato uomo di cultura, uomo anche di intensa attività politica, di intensa attività anche propositiva all'interno della Camera, dei deputati, all'interno anche di alcuni governi della Repubblica e credo che si possa ricordare una legge che porta ancora il suo nome, una delle prime leggi, la legge Galasso appunto, che si è presa in carico un problema che sentiamo anche come liceo Canova, molto importante, che è il tema della tutela del paesaggio, sul quale abbiamo avuto diversi incontri anche a scuola. Il motivo e l'interesse di questo incontro essenzialmente sono due. La tematica è quella legata alla questione meridionale, ma non soltanto intesa come tema di studio e esercizio di studio storico. È un tema di grandissima attualità, da 150 anni, che è un modo anche questo oggi per ricordare l'anniversario dell'unificazione italiana, da 150 anni ci attraversa come una tematica estremamente delicata, ma oggi io penso che il professor Galasso ci possa aiutare a riviverla e a rivederla in termini di grande attualità. Non è più la questione meridionale dei tempi dell'inchiesta di Iaccini, delle ricerche dei vari storici meridionalisti di fine 800, ma oggi si inquadra, ovviamente ragazzi dobbiamo pensarlo anche così, all'interno di uno scenario che sta cambiando e quindi io penso che il professor Galasso ci aiuterà a capire cosa significa questione meridionale nel momento in cui siamo nell'unità europea, nel momento in cui la globalizzazione economica si è fatta strada e nel momento in cui le istanze anche federaliste poi sono così pressanti e quindi rivedere anche questo tema all'interno di questi scenari così mutati, credo che sia per voi un'occasione di approfondimento ma di riflessione soprattutto anche sul presente e sul futuro. La seconda occasione importante di oggi è legata credo poi anche oltre che al tema, anche alla possibilità di far incontrare appunto 300 ragazzi di 11 classi degli anni terminali, lo dico al professor Galasso, così glieli presento anche del liceo classico, del liceo linguistico, del liceo Canobo, di farli incontrare con chi la storia la scrive, con chi la storia la ricerca, con chi della storia fa un esercizio quotidiano appassionato, perché la grandissima passione ha guidato il professor Galasso in questi anni, un esercizio costante di riflessione sul passato ma sul presente e anche sul futuro. La storia si studia sui documenti, si studia sulle fonti e si studia poi sulla storiografia. Ecco voi ragazzi avete oggi la possibilità straordinaria, un'occasione di incontrare, di parlare, di ascoltare chi fa la storiografia, chi è uno dei massimi esperti appunto di storiografia sulla questione meridionale, non soltanto i manuali ma proprio la viva voce di un autore di chi la storia appunto, la fa e la scrive anche per noi. Devo anche io iniziare con dei ringraziamenti. I ringraziamenti sono una parte rituale anche un po' noiosa, Presidente, delle circostanze come queste. Nel caso presente però non è un ringraziamento credetemi pure rituale o lo è soltanto nella misura indispensabile e necessaria ma è anche un ringraziamento molto partecipato. Per molte ragioni oggettive perché siamo in una delle parti più dinamiche avanzate dell'Italia di oggi, siamo anche in una delle parti dell'Italia più attive, più dinamiche anche qui della vita politica sociale dell'Italia di oggi e parlare qui di questione meridionale assume quindi una valenza che va al di là del tema specifico, come mi pare che mettesse in rilievo anche il Preside. Però non voglio preoccuparvi, non intendo fare una lezione, io intendo fare una chiacchierata anche perché si suole dire che la storia è maestra della vita, mai proposizione più sbagliata di questa, la storia non insegna niente. Se la storia insegnasse qualcosa, fin dall'origine l'umanità avrebbe appreso qualcosa in materia e invece si ripropongono sempre gli stessi problemi anche nella vita familiare. Che cosa fanno i genitori se non dire non mettere al bambinello il dito nella spina della corrente perché non toccare qui perché ti cade l'acqua, non frequentare quegli amici che ti portano a cattiva strada, mettiti la maglia di lana perché oggi fa freddo, devi scansare l'umido. I ragazzi fanno sempre tutto il contrario e poi dopo i genitori, hai visto, te l'avevo detto, era così. E invece nonostante l'apparenza hanno ragione i ragazzi, è torto i genitori. Non perché i genitori non dicano cose giuste e non abbiano il dovere di dire queste cose, ma perché bisogna capire che la vita è una formazione, è una dinamica continua e ciò che non si scopre, non si vive, non si elabora in prima persona per esperienza, che a volte può essere sofferta e infelice, non appartiene realmente alla costruzione e allo sviluppo dell'umanità a cui appartiene anche la vita dei giovani. Quindi non vi voglio fare nessuna lezione e non vi aspettate di apprendere nulla da me. Voglio solo avere la possibilità di chiacchierare con voi e ringrazio che mi ha dato questa possibilità, che è anche un onore, di farlo in rapporto al tema della questione meridionale. Questo è stato soltanto per la verità uno degli argomenti dei miei studi, perché l'argomento proprio dei miei studi storici è la storia europea e italiana dell'età moderna, in particolare del 5-600 da una parte e dell'8-900 dall'altra parte. Però io sono un uomo del mezzogiorno e con la storia del mezzogiorno appunto ho cominciato i miei studi. Il mio primo lavoro fu un saggio presidente sulle città campane nell'alto medioevo, quando le città campane avevano nel Mediterraneo una posizione analoga a quella che è stata poi di Venezia e di Genova. E poi ho proseguito e adesso proprio in questi giorni è uscito il sesto e ultimo volume di una mia storia del Regno di Napoli, edita dalla UTET, che diciamo così ha riassunto un po' l'innumerevole serie degli studi che ho dedicato a questo argomento, ma sempre, come vi dicevo, nel quadro della storia europea e italiana, dalla quale è quadro la storia del mezzogiorno inseparabile, così come lo è la storia italiana nel suo complesso. E non vi preoccupate neppure troppo, io non ho intenzione di parlare più di tre ore, quindi ce la faremo a sopravvivere tre ore a questa chiacchierata. Dunque, questione meridionale. Cominciamo col vedere quando è sorto a questa espressione. Questa espressione, così come la usiamo noi oggi, si ritrova per la prima volta nel 1864 nell'articolo di fondo di un giornale napoletano, che esiste tuttora, è uno dei più antichi giornali dell'Italia Unita, il giornale si chiama Roma, allora era un giornale repubblicano, democratico, il fatto stesso che si chiamasse Roma voleva dire che apparteneva a quella corrente italiana che nei primi anni dell'Unità, dopo il 1860, auspicava il passaggio di Roma all'Italia e l'adozione di Roma come capitale del paese, che era un obiettivo in generale della classe politica italiana di allora, ma in particolare dell'ala mazziniana, garibaldina, repubblicana, radicale e così via. E dunque il giornale scriveva la questione meridionale in un articolo di fondo del suo direttore di allora, Diodato Rioi, che cosa però intendeva per questione meridionale? Non quello che noi oggi intendiamo, ma una cosa ben diversa, perché certamente voi sapete già o state sul punto di sapere nei vostri studi, che dopo i primi anni, nei primi anni dell'Unità, negli anni Sessanta per essere precisi, dell'Ottocento, proprio quando l'Italia Unita era ancora una bambinella, in grave pericolo per le sue condizioni di salute non fiorente, e dunque nei primi anni di vita di questa bambinella si presentò il problema del brigantaggio nell'Italia meridionale, bisogna combattere una vera e propria guerra contro il brigantaggio. Il giornale Roma adoperava l'espressione per la prima volta la questione meridionale proprio in relazione alla questione del brigantaggio e del rischio, del pericolo forte che questo grande fenomeno sociale e politico significava per il futuro e per la sopravvivenza dello Stato italiano unitario neonato. Solo verso il 1880, quindi quasi 20 anni dopo, 15-16 anni dopo, questa espressione comincia ad essere usata nel termine in cui noi oggi, nel significato in cui noi oggi la usiamo, come questione cioè relativa alle condizioni del, questo è questione meridionale, questione relativa alle condizioni del mezzogiorno nella vita dell'Italia, nella vita complessiva dell'Italia considerata come un solo paese. L'Italia considerata come un solo paese non è una frase mia, è una frase di un signore molto più importante di me, che era il conte di Cavour, il quale non nel 1860-59 o 61, ma nel 1847, quando l'Inghilterra rivide le sue tariffe doganali, scrisse un grosso studio sulle ripercussioni che le nuove tariffe doganali inglesi avrebbero avuto nel commercio dei paesi europei e in particolare dell'Italia. Egli si interessava dell'Italia in un momento in cui l'Italia era divisa in 7-8 stati o sovranità diverse, in un momento in cui dell'unità italiana ne parlava solo Mazzini, ecco parlava Mazzini, qualche altro insomma, e se si pensava all'unità d'Italia si pensava a una unità federale e Cavour invece, che passa per essere uno di quelli convertitosi alla soluzione unitaria soltanto in extremis, bene questo Cavour nel 1847, in questo studio sulle ripercussioni della riforma doganale inglese sul commercio europeo e quindi in particolare sul commercio italiano, diceva io voglio trattare di questo argomento in relazione, ecco la frase che pronunciavo prima, in relazione all'Italia considerata come un solo paese e faceva infatti un'analisi del commercio estero italiano, prescindendo dalla divisione dell'Italia in stati e realtà anche economiche diverse e configurava questa immagine unitaria dell'Italia. Quando verso il 1880 si comincia ad adottare l'espressione questione meridionale nel senso appunto di condizione del mezzogiorno, nel quadro dell'unità italiana dell'Italia considerata come un solo paese, il passaggio di significato dell'espressione stessa è forte, non si tratta più del brigantaggio, di altro si tratta delle condizioni economiche e sociali dell'Italia e si comincia anche a parlare subito di due Italie, mentre l'espressione questione meridionale è stata introdotta come vi ho detto ad altro proposito dal giornale napoletano Roma, l'espressione le due Italie non è di nessun italiano, è di un grande storico tedesco della prima metà dell'ottocento, Friedrich Leo, il quale ha scritto una importante storia dell'Italia nell'alto medioevo, che ancora oggi è un testo, dopo due secoli quasi, è un testo di consultazione importante per chi studia l'alto medioevo italiano e Leo usava l'espressione le due Italie per indicare l'Italia longobarda e l'Italia bizantina, come sapete quando i longobardi, i longobardi sono i veri iniziatori della storia italiana, con la discesa dei longobardi in Italia muta radicalmente il quadro e l'impianto di base della storia italiana. Mi trattengo un attimo su questa che sembra, può sembrare, una divagazione rispetto all'oggetto proprio della nostra chiacchierata, perché appunto questo ha relazione con il nostro argomento, ma è importante anche per la storia italiana. I longobardi segnarono la prima definitiva rottura con la tradizione romana dell'Italia, che era già stata incrinata da Odoacre, dagli Ostrogoti, però non in maniera radicale e complessiva. Invece con i longobardi il taglio è netto e con i longobardi hanno anche inizi alcune caratteristiche che poi rimarranno nel corso di tutta la storia italiana e io credo di poter dire che si avvertono anche oggi preside. Una prima distinzione, la divisione dell'Italia in due aree politiche, l'Italia appunto longobarda e l'Italia bizantina, perché i longobardi non riuscirono a conquistare tutta l'Italia, conquistarono la massima parte, neppure tutta, dell'Italia centro-settentrionale, ma Venezia ad esempio è sempre fuori della conquista longobarda, e anche Roma e il Lazio restarono fuori della conquista longobarda, si spinsero anche nel Mezzogiorno dove fondarono una entità politica destinata poi a durare ben più del regno longobardo, il regno longobardo finisce nel 774 con la conquista di Carlo Magno, invece il ducato longobardo di Benevento che poi diede l'origine vita ai due principati ugualmente longobardi di Salerno e di Capua finisce solo con l'arrivo dei normanni dopo il 1050, quindi come vedete il longobardesimo meridionale sopravvive di tre secoli a quello settentrionale. Quindi un primo elemento, questa divisione dell'Italia in due parti, che ben presto diventeranno realtà non solo politicamente diverse, ma anche realtà culturalmente in parte diverse. Un secondo elemento, il conflitto tra Stata e Chiesa. Questo si sarebbe prolungato fino al 1870, anzi fino al 1929, data del concordato, come sapete, senza però che il problema dei rapporti tra Stato e Chiesa sia stato definitivamente chiuso dallo stesso concordato. I longobardi cozzarono subito contro Roma, i longobardi erano già cristianizzati con larghe sopravvivenze del loro paganesimo germanico, però erano cristiani di confessione ariana, quindi la Chiesa era cattolica, come è, e quindi c'era un urto fatale, però l'urto maggiore era politico. I longobardi tendevano a conquistare tutta l'Italia, la Chiesa si opponeva e quindi ci fu questa nascita sul piano cultural-religioso e sul piano politico del difficile rapporto tra Stato e Chiesa in tutta la storia italiana posteriore. Un terzo elemento fu che la Chiesa, per fare fronte alla potenza longobardi, certamente superiore a quella della Chiesa stessa, ben presto, molto prima di Carlo Magno, cominciò a invocare l'aiuto di potenze straniere, in particolare dei franchi, che erano allora il popolo germanico più potente dell'Europa occidentale, e i franchi scesero più volte in Italia fino a che vi scesero anche con Carlo Magno, e questa volta, con Carlo Magno voglio dire, la discesa fu risolutiva, perché addirittura finì la signoria longobardi in Italia. non la presenza longobarda, perché Carlo Magno assunse la corona del regno longobardo, quello che poi nei manuali di storia, con un termine non rispondente alla realtà, trovato e designato come regno italico indipendente nel X secolo, e la gente longobarda continuò a vivere sotto la nuova signoria franca, benché i franchi franchizzassero, consentitemi questo termine pessimo, franchizzassero parecchio l'Italia longobarda. Da qui trae origine una interferenza straniera nella vita italiana, che ugualmente si è prolungata in tutto il corso della storia italiana, ed è stata interrotta in sostanza, se uno ci riflette, solo in due periodi, ovviamente sempre in modo relativo, perché il legame tra storie italiane e storie europee è completo, organico e ineludibile sempre, così come è quello di tutti gli altri popoli europei, però in due periodi si vede questa assenza di condizionamenti straniere della vita italiana, uno è quello che va, diciamo, più o meno, dalla metà del 300 agli inizi del 500, anzi prima ancora alla discesa di Carlo VIII di Francia in Italia nel 1494, un periodo di un secolo e mezzo, poco meno di due secoli, nel quale gli stati italiani di allora ebbero un'autonomia, si videro fra loro le questioni italiane e decisero essi il destino della penisola, e poi di nuovo dal 1861 in poi, e tra l'altro, permettetemi di sottolinearlo, questo avere emancipato l'Italia dalla conduzione, dalle decisioni della politica europea, è il primo grandissimo titolo di merito del nostro risorgimento. Dal 1861 gli italiani, bene o male, spesso più male che bene, ma insomma bene o male, hanno essi deciso che fare dell'Italia, così come nel corso della storia italiana, ve lo dicevo un attimo fa, è accaduto soltanto raramente, in particolare in pratica, solo in quel secolo e mezzo, tra la metà del 300 e la fine del 400. Ma c'è ancora un quarto connotato dell'importanza Longobarda nella storia italiana, e cioè il fatto che i Longobardi non riuscirono mai a costituire una monarchia organica, solida, forte, come riuscì invece ad altri popoli germanici, in primissimo luogo proprio ai franchi, che dettero così un'impronta radicale, fortissima alla storia della Francia, di quella che noi oggi chiamiamo la Francia. Nel regno Longobardi invece era fortissima l'autonomia dei duchi Longobardi, ognuno dei ducati Longobardi era praticamente una potenza a sé, il re doveva sempre mediare tra queste potenze ducali, il re stesso non era ereditario, ma era elettivo, e quindi aveva bisogno di tenere presente quella che noi oggi diremmo con termine moderno, la sua base elettorale, e questo costituì una caratteristica altrettanto fondamentale della storia italiana, perché è l'alba di quel pluralismo, di quella varietà, di quel policentrismo che ha sempre caratterizzato la storia italiana. Come vedete sono quattro caratteristiche, dualismo, stato-chiesa, interferenza straniera, policentrismo, che in un modo o nell'altro ritroviamo, in termini naturalmente mutati, perché sono passati 1500 anni, 1300 anni, ritroviamo forse con qualche difficoltà su qualche punto, ma certamente con grandissima evidenza complessiva anche nella storia italiana di oggi, e ho voluto fare questa digressione appunto perché il punto del dualismo e anche su questa base, il punto del dualismo voglio dire è una cosa antica nella storia italiana, e appunto su questa base vorrei dire che si basa una delle interpretazioni della questione meridionale. Quindi ho fatto una digressione, ma forse me la potete perdonare perché arriviamo lo stesso dove dobbiamo arrivare, ma forse con qualche nozione in più. Una, vi diceva, delle interpretazioni della questione meridionale si rifà proprio a questa natura storica antica del dualismo italiano, che è un dualismo politico, economico, sociale. Pensate solo a un fatto per esempio sul piano politico sociale. Quando Carlo Magno conquistò il Regno Longobardo nel 774, introdusse anche in Italia il feudalesimo. Lo introdusse nella parte dell'Italia che conquistò, cioè l'Italia centrosettentrionale, in particolare l'Italia settentrionale, l'Italia padana. Nel Mezzogiorno invece il feudalismo non c'era. Il feudalismo continuava gli ordinamenti della tarda età imperiale romana e quindi viveva ancora nel regime delle grandi realtà agrarie e cittadine della tradizione imperiale romana, benché questa tradizione nei secoli dell'Alto Medioevo fosse molto esangue, molto provata dalle sue vicissitudini e dalla decadenza complessiva del mondo mediterraneo nell'Occidente. Non era così nell'Oriente musulmano e bizantino. Questa situazione viene di colpo rovesciata nel secolo XI, cioè dopo il 1000, diciamo dal 1000 in poi. Perché che accade? Accade che il Mezzogiorno viene conquistato dai normanni che provenivano dalla Normandia, dalla Francia. in realtà provenivano dalla Danimarca e dalla Norvegia. Norvegia, il nome stesso lo dice, Nordmen, uomini del Nord. Quando si installarono in Francia, accettando di essere vassalli del re di Francia, il paese francese che porta ancora questo nome prese il nome suo da loro, la Normandia, che tra l'altro è una delle parti più belle della Francia. se non avete avuto occasione di visitarla e se avete l'occasione di farlo, permettetemi di raccomandarvelo, perché dal punto di vista storico, dal punto di vista paesistico, posso aggiungere dal punto di vista preside della cucina e di altre particolarità importanti, anche del vino. Si può dire questo? Ecco, allora, non vi troverete male. Ma venendo dalla Normandia, nel Mezzogiorno d'Italia, i normanni, che sono i fondatori della monarchia meridionale, del Regno di Sicilia, che poi si divise in due parti, il Regno di Sicilia e il Regno di Napoli, ecco, i normanni introdussero nel Mezzogiorno il feudalissimo che non c'era. proprio nel momento in cui nell'Italia padana e anzi nell'Italia centro-settentrionale, perché accadde lo stesso in Toscana, nelle Marche, nell'Umbria e in gran parte del Lazio, il feudalesimo che c'era veniva rovesciato, sorgeva il movimento comunale e così la differenza prima del 1000, che era tra un'Italia feudale al centro-nord e un'Italia non feudale al sud, si rovesciò e divenne differenza tra un'Italia comunale al centro-nord o prevalentemente, aggiungiamo anche, prevalentemente comunale al centro-nord e invece un'Italia feudale nel Mezzogiorno e in Sicilia. Un clamoroso rovesciamento storico. Quindi alcuni ritengono che questa radice della questione meridionale sia da riportare a questa antica età storica addirittura intorno al 1000 o prima del 1000. Poi consolidatasi nei secoli perché nel tardo medioevo e nell'età moderna il mercato meridionale fu dominato dai mercanti settentrionali, era lo spazio d'azione quasi incontrastato dei veneziani, soprattutto dei toscani e ancora di più i veri dominatori della situazione dei genovesi. Tanto è vero che nel 1700 quando c'è il movimento riformatore generale in Italia c'è tutta una viva e ancora oggi impressionante analisi delle condizioni del Mezzogiorno da parte dei riformatori meridionali, degli illuministi meridionali i quali sollevano il problema dello sviluppo del Mezzogiorno e deprecano fortemente che un paese che si riteneva ricco e provvisto di tutti i beni possibili di natura come il Mezzogiorno era considerato nel quadro italiano ed europeo vedesse gli stranieri arricchirsi in esso con le loro attività e invece i meridionali rimanere poveri soggetti economicamente a questi mercanti stranieri che poi furono sostituiti proprio nel 1700 e nell'800 da inglesi, francesi, svizzeri, belgi un po' di tutto olandesi ci sono dei cognomi napoletani che sono appunto dovuti a questa immigrazione mercantile del 7 e 800 e quindi secondo questa visione la dualità della nostra Italia è di origine remota non è dovuta all'unificazione italiana è antecedente all'unificazione italiana c'è invece un'altra scuola di pensiero adesso questo termine di scuola di pensiero è di grande moda fate un figurone usandola in realtà scuola di pensiero se la usate nei temi negli esami dite scuola di pensiero avete un passaporto in realtà sono due opinioni e due visioni diverse c'è una diversa scuola di pensiero che pensa invece che il dualismo italiano e la differenza di condizioni tra le due parti del paese si sia determinata soltanto dopo l'unità italiana e una gran parte la quasi totalità di questa seconda scuola di pensiero ritiene anche che non solo si sia questa dualità determinata dopo l'unità italiana ma si sia anche determinata a causa dell'unità italiana perché si dice da questo punto di vista che le condizioni economico-sociali del paese grossomodo non puntualmente ma erano più o meno analogo poco distanti fra loro mentre invece con l'unificazione italiana questa esigua differenza o assoluta mancanza di differenza tra le due parti del paese sia venuto meno a causa della politica seguita dallo Stato italiano ecco un caso tipico in cui valgono più verità per la stessa cosa perché la storia non è come la matematica l'algebra che i beati loro stabiliscono quanto fa 2 più 2 4 e voi non potete dire che 2 più 2 fa 22 scrivendola a fianco tutti e 2 2 più 2 fa 4 punto e basta ma fu benefica o malefica l'opera di Napoleone il grande bel problema c'è chi dice che è benefica e chi invece che è stata malefica e come si può orientare al riguardo se non si vuole scegliere per una qualsiasi ragione uno dei due partiti una delle due scuole di pensiero tenendo presente che la storia e la vita sono complesse sono drammatiche e complesse questo lo apprendiamo tutti noi faticosamente nella nostra vita che ci insegna questo si ci insegna qui c'è un insegnamento della vita innanzitutto che la vita è un dramma è una lotta non c'è nulla di scontato nulla di automatico nulla di meccanica anche quello che sembra più scontato può entrare in crisi da un momento all'altro le catastrofe improvvise appartengono alla vita e quindi anche alla storia e alcune cose che viste da un certo punto di vista presentano certi aspetti viste da un altro punto di vista presentano altri aspetti drammaticità e complessità quindi non è facile giudicare quella se ne è fuggito di casa per andare a convivere così si diceva una volta adesso non si dice di più se ne è fuggito di casa per andare a convivere riprovazione universale ha tradito l'attesa la fiducia della famiglia e così via e però seguire le ragioni del cuore dell'amore e anche la sua validità c'è sempre questa complessità la stessa complessità possiamo applicarla la stessa complessità e drammaticità della storia e della vita la possiamo anzi la dobbiamo applicare a questa benedetta questione benedetta si fa per modo di dire del dualismo italiano della questione meridionale sono vere tutte e due le cose c'è una radice preunitaria ma c'è anche un forte sviluppo del dualismo italiano nell'unità io mi voglio fermare in particolare su questo secondo aspetto perché non c'è dubbio che la politica dello stato italiano complessivamente nei primi 40 anni dell'unità non fu vorrei sottolineare immaginate due belle righe di sottolineature non fu favorevole al mezzogiorno vi porto qualche esempio immediatamente il nuovo stato nel 1861 adottò le sue tariffe che erano le tariffe doganali che vigevano in Piemonte e quindi anche in qualche altra parte tariffe liberistiche senza protezione economica era un grande gesto di coraggio ed è un gesto di vitalità della nuova Italia faceva quello che noi oggi consideriamo un grande fattore di progresso cioè l'assoluta libertà delle merci senza troppi condizionamenti o senza alcun condizionamento doganale nel mezzogiorno questo era un dato funesto perché l'economia del mezzogiorno che aveva alcuni punti di modernità per esempio ne cito uno solo presidente per esempio il maggiore stabilimento industriale italiano e uno dei più notevoli su scala europea era lo stabilimento ferroviario napoletano di Pietrarsa Pietrarsa è un posto di Napoli insomma con mille operai che era allora una dimensione nel 1860 come noi dicessimo oggi una fabbrica come la Fiat degli anni d'oro con 120.000 dipendenti insomma e presentava altri punti di modernità l'apertura delle frontiere fu rovinosa per il mezzogiorno perché le attività economiche del mezzogiorno erano fortemente protette dallo Stato avevano tariffe protezionistiche quindi aver allargato le maglie del sistema doganale comportò che l'economia meridionale non potesse resistere al libero mercato senza le protezioni doganali le attività economiche maggiori del mezzogiorno un po' di metallurgia anzi di metalmeccanica come il caso di Pietrarsa ma c'erano anche stabilimenti siderurgici eccetera il molto tessile che c'era la produzione tessile del mezzogiorno soprattutto nella zona di Cassino e Sora a nord e nella zona di Salerno a sud era una produzione importante c'era un'alba dell'industria conserviera che poi si è sviluppata moltissimo allora era proprio c'erano grossi cantieri navali a Castellammare anche a Napoli tutta questa struttura economica crollò quando le frontiere doganali furono aperte e le produzioni meridionali si trovarono esposte al gioco del mercato in cui non potevano che soccombere che cosa si vuol dire con questo che non bisognava liberalizzare il commercio italiano no perché questo è stato un fattore importante dello sviluppo italiano lo si poteva fare per il mezzogiorno e non si fece più gradualmente dilazionando e graduando la liberalizzazione un altro punto la tassazione il mezzogiorno aveva un regime fiscale lievissimo come quello che noi oggi ci sogniamo soltanto Presidente ma che saremmo felici di avere aveva un regime vi voglio solo dare un dato calcolato per il 1834 ma nel 1860 più o meno eravamo sulla stessa sulle stesse proporzioni sono proporzioni per giunta ricostruite da uno scrittore napoletano del tempo nel 1830 si chiamava De Augustinis nel 1800 anzi no scusate rotondo rotondo si chiamava nel 1834 nel mezzogiorno si pagava una lira di tassa diciamo un euro di tassa tanto per dire in Piemonte si pagava a testa in Piemonte se ne pagavano 14 e in Francia 34 felice il regno di Napoli certo per il lieve carico fiscale questo però aveva il suo la sua controfaccia l'altro specchio l'altra faccia dello specchio l'altra faccia della medaglia perché la lieve pressione fiscale corrispondeva a una debole politica di infrastrutture e di attrezzature la Francia pagava 34 lire di tasse per abitante ma costruiva la Francia moderna nelle sue strutture materiali e immateriali come per esempio il sistema educativo però indubbiamente non poteva il mezzogiorno restare allo stesso livello di tasse era impossibile però anche lì si agì di un colpo di un momento all'altro si passò dalla tassazione lì alla tassazione pesantissima del Piemonte con le conseguenze che potete immaginare ma alle quali conseguenze ne bisogna aggiungere un'altra che la ricchezza del mezzogiorno era soprattutto agraria dipendeva dalla terra e la principale imposta quella dominante era l'imposta fondiaria che ci ha deliziato fine come lei ricorderà perché lei è giovanotto come me e quindi ricorderà che ancora negli anni 30 e 40 l'imposta fondiaria era la maggiore imposta italiana la più temuta di tutti case terreni campagne eccetera e l'imposta fondiaria colpiva soprattutto il sud quindi praticamente il sud si trovò contemporaneamente a far fronte alla liberalizzazione delle tariffe doganali all'imposizione molto cresciuta per persona e a un'imposizione fiscale che colpiva soprattutto la maggiore fonte di ricchezza anzi quella dominante di ricchezza per il mezzogiorno il mezzogiorno Borbonico aveva inoltre proprio grazie a questa lieve tassazione a questa debole politica di infrastrutture diremmo oggi aveva anche forti riserve monetarie e auree molto superiori non aveva debito pubblico aveva forti riserve queste forti riserve furono subito messe nella voragine dei conti dell'Italia unita l'Italia unita ha sempre avuto a che fare con i conti anche oggi ecco e quindi il mezzogiorno perse anche immediatamente le sue risorse quindi la visione di coloro che dicono che questo dualismo nasce solo dopo l'unità a causa dell'unità non è accettabile in generale ma va considerato nelle esame particolari e poi si vide subito la reazione del mezzogiorno a tutto questo anche il centro nord dell'Italia non era avanzato coloro che sparlano del risorgimento consentitemi di dire questo e che hanno l'aria di trattare il risorgimento come una specie di capriccio di una elite di intellettuali e che parlano del risorgimento come una specie di violenza fatta agli italiani dovrebbero considerare che nel 1860 l'Italia nel quadro internazionale e mondiale non era quasi niente non era quasi niente aveva una posizione estremamente anche qui immaginatevi parecchie sottolineature estremamente marginale in 150 anni l'Italia è passata considerata come un solo paese come diceva Cavour è passata tra i paesi più avanzati del mondo fa parte del G8 G10 G12 qui i numeri ballano un poco adesso sono arrivati al G20 mi pare G significa grandi e comunque o 10 o 8 o 12 o 20 l'Italia fa parte di questo gruppo un punto di arrivo che chi l'avesse pronosticato nel 1860 avrebbe mosso a ridere gli ascoltatori e l'Italia che si mette non lontano o addirittura di più della Francia dell'Inghilterra state scherzando avrebbero detto allora e oggi questa è la realtà perché noi consideriamo che il risorgimento abbia avuto come sua meta l'unità e abbiamo ragione l'unità fu la aspirazione e la grande realizzazione del risorgimento ma non fu solo unitario il sogno e la aspirazione del risorgimento e la conquista del risorgimento l'unità andò sempre congiunta con altri due valori ugualmente attuali come l'unità stessa anche oggi innanzitutto al valore della libertà se vi trovate a Roma e vi trovate davanti al monumento che più di ogni altro celebra l'unificazione italiana cioè il cosiddetto Vittoriano a Piazza Venezia questo grande monumento di marmo che fu paragonato a una macchina da scrivere perché le prime macchine da scrivere Olivetti avevano la stessa struttura se trova una fotografia di queste macchine da scrivere del Vittoriano la mostri ai suoi e vedrete che il Vittoriano ha una struttura architettonica più o meno corrispondente a quella delle prime macchine da scrivere vedete che sulle due torri laterali da una parte sta scritto patrie unitati il latino presidente è poco elegante però vuol dire all'unità d'Italia ma sull'altra torre quella di destra guardando il monumento sta scritto civium libertati e qui il latino è anche buono alla libertà dei cittadini perché questi due valori l'unità e la libertà l'unità e la civiltà liberale furono la reale indissolubile esigenza e aspirazione del risorgimento e poi si è aggiunso un terzo valore e nell'Italia prima del 1860 non solo non c'era l'unità ma non c'era da nessuna parte la libertà tranne che nel Piemonte che l'aveva realizzata dal 1848 in poi e insieme con questi due valori ce n'era un terzo la modernità perché gli italiani sentivano da un secolo dalla metà del 1700 gli italiani non facevano che un bilancio tristissimo di come si era ridotta l'Italia l'Italia fino ai primi del 1600 era stato il paese guida dell'Europa dal punto di vista culturale dal punto di vista economico dal punto di vista della civiltà materiale le buone maniere la vita moderna sono nate nella Italia del rinascimento e nel corso del 600 invece questa posizione si inverte l'Italia va alla retroguardia della civiltà europea prima venivano gli stranieri in Italia a studiare come noi oggi andiamo a Harvard o all'MIT a Cambridge o a Oxford e invece poi furono gli italiani a dover andare il sogno del risorgimento fu di riscattare l'Italia da questa grave decadenza anche materiale e di riportare l'Italia fra i paesi più avanzati del risorgimento dell'Europa del mondo e ci si è bene o male riusciti quindi e questo perché ve lo dicevo per ricordare che tutti questi fatti di cui parliamo del dualismo italiano vanno sempre inquadrati contestualizzati nel destino italiano generale adesso devo abbreviare molto e dirò soltanto che poi negli ultimi vent'anni dell'ottocento la situazione del mezzogiorno si aggravò molto per ragioni interne ed esterne per ragioni esterne perché ci fu una grande depressione negli anni 90 dell'economia mondiale dal 93 al 96 ci fu una guerra commerciale tra l'Italia e la Francia che rovinò il mezzogiorno perché la Francia subito interruppe le importazioni di olio e di vino due dei principali prodotti del mezzogiorno che riguardavano soprattutto noi meridionali che in mezzogiorno perdette così una voce essenziale del suo bilancio economico e poi poiché come si dice in un proverbio meridionale il cane morde sempre lo stracciato cioè chi è più miserello ci si aggiunse la crisi della fillossera la fillossera è un parassite che distrusse interamente la viticoltura meridionale la viticoltura meridionale dovrebbe essere rifondata da capo i vigneti del mezzogiorno mentre gli oliveti sono antichi si trovano oliveti bisecolari trisecolari i vigneti del mezzogiorno invece non possono avere più di un secolo di vita perché sono dovuti tutti ripiantare dopo la fillossera e per ragioni anche interne che non solo attengono a evenienze straordinarie negative come la fillossera ma anche al fatto che la situazione già squilibrata del mezzogiorno venne ulteriormente squilibrata e cominciò la grande emigrazione meridionale la storia dell'emigrazione meridionale è interessantissima se la si riferisce in particolare all'emigrazione italiana perché fin verso il 1880 90 era soprattutto dal nord che si emigrava dopo il 1880 invece si comincia ad emigrare soprattutto dal mezzogiorno e poi ai primi del novecento l'emigrazione settentrionale viene assorbita dallo sviluppo industriale del mezzogiorno per cui tutti emigrano a Milano a Torino a Genova se voi pensate alle tante cose di Milano che dipendono da sono state fatte da non milanesi per esempio da un veneto fu fondata la casa editrice Mondadori che è tuttora un veneto di Verona fu fondata la Mondadori l'Alfa Romeo gloria dell'industria milanese italiana eccetera fu fondata da un napoletano l'ingegnero Romeo di Sant'Antimo da Napoli e un altro napoletano Torelli Violì fondò ancora prima nel 1876 il Corriere della Sera perché la particolarità dell'Italia è stata sempre quella di questi scambi invece l'emigrazione meridionale restò affidata soprattutto alle destinazioni transatlantiche non poteva essere assorbito non solo in Italia ma neppure in Europa questo spinse lo Stato italiano a una certa politica per il Mezzogiorno che dette buoni frutti nei primi anni del Novecento spinse anche alla formazione del meridionalismo a questa grande corrente di pensiero per cui i nomi di Giustino Fortunato perlomeno e di Francesco Nitti vanno ricordati tra i massimi nomi della cultura italiana ed europea di questo periodo poi sopravvenne il fascismo che fu molto negativo per il Mezzogiorno ma proprio molto benché il fascismo facesse molto in termini di opere pubbliche ma complessivamente fu estremamente negativo per il Mezzogiorno poi è venuta la Repubblica che iniziò con la politica per il Mezzogiorno la politica speciale con un provvedimento ad hoc per il Mezzogiorno e con la istituzione della Cassa per il Mezzogiorno io credo e la storiografia più accreditata ritiene che la politica meridionalistica della Repubblica abbia caratterizzato una delle pagine più alte della politica italiana perché la politica per il Mezzogiorno fu fatta nella considerazione del carattere nazionale della questione meridionale e perché la questione meridionale era in gran parte nata come ho detto nell'ambito dell'Italia Unita e perché lo sviluppo del Mezzogiorno era un elemento di forte condizionamento dello sviluppo generale italiano sviluppando il Mezzogiorno si sviluppava tutta l'Italia e perché veniva ritenuto un interesse fondamentale dell'Italia non del Mezzogiorno lo sviluppo del Mezzogiorno perché un'Italia che si fosse privata del suo quadro nazionale non avrebbe più contato in Europa quello che ha contato e bene o male conta l'Italia quindi si fece questa politica che anch'esso ottenne ottimi risultati nei primi vent'anni poi dopo degenerò è stato necessario rinnegarlo conclusione oggi posso invece di parlare tre ore parlo solo due ore e mezzo come vedete oggi oggi la politica per il Mezzogiorno è stata definitivamente sepolta è subentrato un movimento di ripulsa del Mezzogiorno da parte di gran parte dell'opinione nazionale si è formata la idea consolidata in una gran parte del nostro paese che il Mezzogiorno sia una zavorra dell'Italia della quale l'Italia farebbe bene a liberarsi come se l'Italia senza il Mezzogiorno potesse restare l'Italia e potesse contare quanto l'Italia che è una sciocchezza piramidale conterebbe infinitamente di meno e questa opinione ha anche acquistato il grandissimo peso politico al punto non solo da aver dato luogo alla scomparsa della politica per il Mezzogiorno ma a negare ogni possibilità della politica di Mezzogiorno d'altra parte con uno sviluppo parallelo il regionalismo previsto dalla Costituzione italiana è stata trasformato come accade nella storia a volte in federalismo regionalismo costituzionale è una cosa il federalismo ne è un'altra noi stiamo introducendo si parla tanto di rispetto della Costituzione ma noi stiamo gravemente alterando la Costituzione italiana sostituendo il federalismo al regionalismo nel che può non esserci nulla di male assolutamente però bisogna intendersi sulla tesi che il Mezzogiorno sia una zavorra dell'Italia mio parere credo a parere anche dei giudizi più equilibrati quest'idea del Mezzogiorno come zavorra dell'Italia fa il paio con l'idea meridionale del Mezzogiorno vittima oppressa e sacrificale di un vero e proprio colonialismo italiano come la colonia interna falsa l'idea di un Mezzogiorno colonizzato e presso dal nord falsa pure l'idea del nord di un Mezzogiorno come zavorra in mezzogiorno invece è una risorsa dell'Italia occorre che essa sia aiutata ma in che modo? non realizzando il federalismo no il federalismo può essere benissimo una prova di responsabilizzazione del Mezzogiorno se i meridionali ce la fanno bene se non ce la fanno si arrangeranno un po' mestiere familiare ai meridionali negli ultimi paio di secoli no non è necessario rinunziare al al federalismo bisogna vedere che tipo di federalismo si fa perché federalismo è una parola è una genere ma all'interno di ogni genere ci sono due specie nel genere federalismo che specie di federalismo si intende praticare oppure bisogna tornare alla politica speciale per il Mezzogiorno i primi a non volere che vi sia di nuovo una politica speciale per il Mezzogiorno sono i meridionali più consapevoli e avvertiti nessuna politica speciale più per il Mezzogiorno e invece una politica italiana come finora non abbiamo avuto altra sottolineatura come finora non abbiamo avuto una politica italiana in cui i problemi e le esigenze del Mezzogiorno siano organicamente considerati che cosa è accaduto con la politica speciale che nel Mezzogiorno e che si diceva bene il Mezzogiorno provvede la politica speciale invece la politica generale ha provveduto al resto del Paese no questa separazione deve finire ci deve essere un'unica politica e poi è necessaria naturalmente una iniziativa meridionale perché anche a livello più volgare si dice aiutati che Dio ti aiuta ma per primo ti devi aiutare tu e non è vero che i meridionali non si sono aiutati innanzitutto non è vero che il Mezzogiorno sia tutta un'unica macchia nera questa immagine indifferenziale del Mezzogiorno è un grandissimo torto che si fa al Mezzogiorno basta che vi viaggiate un po' e ve ne rendete conto il Mezzogiorno ha molte moltissime addirittura eccellenze addirittura eccellenze in alcune quella che viene detta un po' spiritosamente la Silicon Valley di Catania è una punta avanzata dell'industria dei microselettori e ho fatto un esempio banale ma tantissimi altri il Mezzogiorno è un'area differenziata ha bisogno di fare i suoi conti con se stesso non è una buona ragione però per considerarlo come una zavorra assolutamente no oltretutto anche quando c'è stata la politica speciale per il Mezzogiorno intendiamoci i grandi lavori del Mezzogiorno li hanno fatti tutti i meridionali i grandi finanziamenti della politica speciale sono finiti tutti al sud no le imprese settentrionali hanno lavorato moltissimo e il finanziamento italiano alle imprese settentrionali nel Mezzogiorno è stato altissimo prima di tutti la Fiat per impiantare lo stabilimento di Melfi quello di Pescara quello di Grotta Minarda e quello di Termini Imerese la Fiat ha ricevuto migliaia e migliaia di miliardi poi si è elevato il contenore di vita del Mezzogiorno ma i consumi del Mezzogiorno a chi giovano a un'industria meridionale che non c'è o giovano all'industria settentrionale che c'è e dovevano finire i risparmi del Mezzogiorno vengono impiegati nel Mezzogiorno dove le occasioni di impiego sono parziali e scarse o non vengono invece trasferiti attraverso il movimento bancario come tutti sanno non è una cosa è una cosa notoria attraverso il movimento bancario nel movimento generale dei capitali italiani non è vero che il Mezzogiorno è una risorsa mal governata dai meridionali stessi pacifico il Mezzogiorno si deve aiutare anche l'Italia deve aiutare il Mezzogiorno ma non nel senso di aiutarlo come vi dicevo dell'assistenza no quella è una cosa odiosa da respingere deve aiutare il Mezzogiorno aiutando se stessa facendo finalmente una politica integralmente italiana non una politica per il Mezzogiorno e una politica che abbia chiari gli stessi obiettivi del Risorgimento l'unità la libertà la modernità grazie certamente ringraziamo il professor Calasso ma adesso sarebbe importante se qualcuno avesse qualche domanda da fare io ho una domanda riguardo a una cosa che ho notato nel suo discorso e ho notato che lei non ha mai citato l'influsso della mafia e delle organizzazioni criminali nella complessità della situazione immagino che lei l'abbia volutamente evitata in qualche modo però la mia domanda va però voglio rispondere prima a questo poi mi fa la domanda non ho parlato di malavita per farmi fare questa domanda e la ringrazio vivamente di aver soddisfatto la mia attesa non avendo moltissimi elementi per permettermi di fare qualsiasi genere di discorso faccio semplicemente una domanda in che misura lei crede che influisca la presenza di tale entità che effettivamente non è assolutamente indifferente anzi forse quasi fondamentale in certi contesti nella complessità della situazione meridionale appunto grazie anche per questa domanda che ripeto consideravo scontata mi potete facilmente credere la ringrazio veramente quanto influisce moltissimo non dico in misura determinante in modo assoluto ma moltissimo anzi voglio usare un termine più esatto intollerabilmente per i meridionali e per i non meridionali questa piaga del mezzogiorno anche qui due scuole di pensiero chi fa un'origine molto antica alcuni sa per la mafia siciliana dicono ha origine dagli arabi altri dicono ha origine dagli spagnoli perché tutti tendono a dire che è questione di altri che è stata importata invece dobbiamo noi noi meridionali assumerci la responsabilità prima e totale di questo fenomeno però alcuni ritengono che sia antica altri che sia recente o comunque o antico o recente c'è un fatto che la malavita quella che oggi definiamo malavita organizzata no? per distinguerla dalla malavita spicciola e corrente di ogni tempo quella ha conosciuto una trasformazione radicale nella seconda metà del novecento per esempio la camurra a Napoli che è la versione napoletana della mafia la camurra a Napoli aveva importanza solo su due punti insomma il commercio ortofrutticolo e l'edilizia case lavori poi dopo il 1960-70 tutto è cambiato perché nelle attività della mafia si introduce la droga non so se avete avuto occasione di vedere il film Il Padrino o la serie televisiva vedrete se non lo avete visto vi capiterà o avete visto vi capiterà forse di vedere che a un certo momento questi mafiosi italo-americani ma anche irlandesi d'America ma anche altri perché la mafia e la malavita americana non sono solo un prodotto italiano comunque questi malavitosi in gran parte italiani o di origine italiana entra il Padrino entra a un certo punto in contrasto con il resto dei boss perché il resto dei boss dicono oggi il grande affaro è la droga e il Padrino dice no io nella droga non voglio entrare perché la droga da quando è entrata la droga nelle attività della malavita tutto è cambiato della malavita stessa e si è avuto una ascesa verticale verticale e vertiginosa della potenza della malavita e questo si spiega perché la droga è un affare senza confronti quello che viene pagato un euro anzi un centesimo di euro al produttore originario al contadino peruviano boliviano afgano indiano thailandese e così via portato nelle piazze nelle 12 minute passa da un centesimo a 100 euro a 1000 euro se vi fosse un'attività economica che rendesse in questa quando lei raggiunge questi limiti di guadagno può comprare tutto perché l'umanità è debole può comprare tutto e può erigere veri e propri imperi non soltanto finanziari perché questi malavitosi non sono stupidi che se ne fanno di tanti soldi allora cominciano a comprare imprese palazzi attività economiche come hotel un'infinità di negozi commerciali quanti negozi commerciali aprono e chiudono in brevissimo tempo perché non sono negozi commerciali sono sedi di riciclo dei fondi di illecita provenienza quei negozi non ci va mai nessuno ma registrano incassi favolosi e pagano le tasse perché così facendo legalizzano una gran parte dei ma da questo momento in poi e questo non è solo un problema del mezzogiorno e non è nemmeno un problema soltanto italiano che qui tutto si riduce alla discussione mafia camorri il mezzogiorno un momento calmo ragazzi ragazzi non voi quelli che dicono questo calma ragazzi in Italia come altrove le capitalizzazioni della malavita investono tutta la vita economica ma dove possono impiegare i loro capitali nel mezzogiorno i malavitosi nell'economia moderna che non c'è la vanno a impiegare dove c'è l'economia moderna in gran parte la destinazione dei capitali della malavita del nord è qui è nell'Italia padana avete visto la trasmissione di Roberto Saviano Roberto Saviano è diventato una specie di icona religiosa io non condivido questo apprezzamento iconico di Saviano però è indubbiamente un uomo che ha detto quello che si doveva dire e con le carte alla mano le carte delle inchieste giudiziarie dei rapporti dei carabinieri e della polizia di stato e della guardia di finanza ha ricordato che nella Italia ricca una buona parte degli investimenti ha ormai quella nefasta origine e non lo fanno solo in Italia e lo fanno anche altrove c'è un buon numero per esempio di mafiosi siciliani e di camorristi napoletani che hanno eletto la Spagna come sede delle loro attività e vanno a investire nelle grandi attività spagnole quindi il problema della malavita che abbiamo detto intollerabile e pregiudiziale per il mezzogiorno e perché sono profondamente grato della domanda perché quando ho raccomandato di fare la politica italiana come vero atteggiamento volevo premettere e lo faccio adesso di considerare il problema della malavita anche questo non solo come un problema meridionale non lo è più da parecchi decenni ormai è un problema internazionale addirittura il mercato internazionale è dominato da due fatti dagli enormi capitali che provengono dal petrolio grazie al quale gli arabi si sono comprati mezza Londra mezza Parigi adesso non so che cosa si stanno comprando e i capitali della malavita internazionale perché c'è la malavita del mezzogiorno ma credete che il mezzogiorno sia l'unico paese malato di malavita? davvero credete questo? perché non ci sono i grandi profitti della mafia russa della mafia cinese della mafia dei paesi arabi perché non ci sono i finanziamenti cospicui che corrono nei paesi dei paradisi si chiamano così vero? dei paradisi fiscali e che non provengono certamente soltanto dal mezzogiorno d'Italia un grandissimo problema per il mezzogiorno in primo luogo che non è più direttamente condizionato in senso profondamente negativo e però non soltanto per il mezzogiorno ognuno si faccia l'esame di coscienza ognuno dica quello che realmente si deve dire a questo riguardo e prenda ferma rimanente il fatto che come ho già detto prima che l'iniziativa meridionale e la responsabilità meridionale viene al numero uno anzi sta fuori classifica sta sopra della classifica sì io mi sono meravigliata sorpresa della domanda fatta prima proprio perché si fermava a metà per fortuna lei ha risposto quello che noi dalla stampa e dalla situazione che viviamo sappiamo già allora o i ragazzi io sono ben contenta di vedere tanti ragazzi qua ma vorrei chiedere anche da ex preside se la conferenza fosse stata di pomeriggio e se qua non c'è il sabato libero se i ragazzi sarebbero venuti ma è un altro signora mi lasci l'illusione che sarebbe stata lo stesso ma perché è così cattiva che vuole togliermi questa soddisfazione modernità chiamiamola così come ha sottolineato benissimo lei professore che ringrazio mi colpisce però una cosa che io sono veneto di treviso e sono però debitore al sud ma sono debitore al sud perché perché anche il veneto cioè il nord l'occidente ha preso ispirazione a meno per le persone di buona volontà dalla cultura classica cioè dall'oriente e l'oriente con Enea dove è arrivato è arrivato con la dove sappiamo con il nonno con il figlio allora questa secondo me è la cosa più importante che deve collegare il nord con il sud il fatto che storicamente noi siamo debitori anche noi del nord alla cultura che proviene dal sud e questo non gliel'ho sentito dire allora a me pare che le cose fondamentali siano due la grande battaglia che lo stato deve fare nei confronti di mafia Camorra e Andrangheta primo e secondo il fatto di ricollegare nord e sud attraverso il tema della cultura grazie grazie a lei assessore Zanini io credo che il nord abbia indubbiamente parecchi debiti con il sud e ritengo che il sud abbia parecchi debiti con il nord noi non ce lo vogliamo mettere in testa ma l'Italia è più una di quanto non sembri stamattina a titolo di esercizio a perdere tempo diciamo così ho scorso l'elenco gli elenchi telefonici che erano in albergo una innumerevole quantità di cognomi meridionali che quando parlano parlano con un accento veneto ancora più marcato del suo assessore Zanini perché si è talmente costruita in Italia una rete di intrecci personali e individuali che veramente rende l'Italia un paese anche fisicamente oggi molto più unito che nel 1800 ma molto più unito che nel 1861 io direi di non parlare di debiti degli uni e di debiti degli altri perché tanto ne hanno gli uni verso gli altri impresso che è uguale misura o sostanzialmente in uguale misura ma di parlare di problemi italiani da risolvere con spirito italiano perché sicuramente l'unità italiana non conviene dissolverla perché ci perdono tutti nessuno escluso nessuno escluso i più ricchi come i più poveri ma non ne parliamo anche per un'altra ragione se mi consente assessore per questa semplice ragione che fare l'unità italiana è stato difficilissimo noi non ci rendiamo conto di quanto sia stato estremamente arduo e difficile e quasi impossibile pressoché fino all'ultimo momento fare l'unità italiana ma io penso lasciatemi forse chiudere con questa altra affermazione personale addebitatela tutta le mie scarse facoltà intellettuali ma io credo che ben più difficile dell'aver fatto l'Italia sia oggi disfare l'Italia perché l'Italia è intrinsecamente legata da tanti e tanti fattori che si fa presto a parlare in un certo senso poi a passare dalle parole ai fatti il discorso è diverso e nel passare ai fatti non solo le ragioni spirituali e culturali alle quali lei giustamente si riferiva ma anche le ragioni materiali fanno la loro parte e io ripeto che disfare l'Italia è probabilmente a mio avviso molto più difficile di quanto non fu l'averla fatta e vi assicuro che non fu difficile ma estremamente difficile grazie ringrazio ancora il professor Galasso ringrazio il preside ringrazio l'avvocato Vittorino Pavani ringrazio tutti i ragazzi anche quelli della scuola del liceo artistico e anche quelli della scuola del del Mazzotti ringrazio veramente tutti siete stati bravissimi a presto arrivederci a presto arrivederci a presto a presto a presto 누